Ciao, sono Gabriella, la vostra personal trainer. Per rassodare e tonificare i glutei, gli elastici, sono un'ottima attrezzatura per il fitness. In questo video vi presento un allenamento completo per rafforzare e tonificare i glutei con solo degli elastici. Se avete una domanda, potete farla direttamente tra i commenti di questo video. Vi risponderò al più presto. Pronti per iniziare? Andiamo! Esercizio numero 1, hip thrust con elastico. Posizionate la schiena su uno step o su una sedia e piegate le ginocchia per far risalire il bacino ed allinearlo con le spalle. L'elastico deve essere posizionato sotto i piedi e mantenuto a livello delle anche. Poi abbassate il bacino fino a quando non è a contatto con il suolo, per poi ritornare alla posizione iniziale mantenendo la posizione per un secondo. Eseguite 4 serie da 16 ripetizioni. Esercizio numero 2, hip thrust con divaricamento delle ginocchia. Sdraiatevi al suolo in posizione supina e mettete un elastico appena sopra le ginocchia. Posizionate il piede su uno step o su una sedia, poi sollevate il bacino per allinearlo con le ginocchia e le spalle. Mantenendo questa posizione, eseguite 3 aperture massimali delle ginocchia senza mai muovere i piedi. Poi tornate alla posizione originale. Questa corrisponde ad una ripetizione. Eseguite 4 serie da 16 ripetizioni. Esercizio numero 3, affondi bulgari con l'elastico. Posizionatevi in piedi e mettete l'elastico sotto uno dei due piedi e l'altra estremità sulle spalle. Mettete poi il secondo piede su uno step o su una sedia dietro di voi. Poi mantenendo la schiena più dritta possibile, scendete sulla gamba rimasta a terra per eseguire degli affondi in avanti. Eseguite 4 serie da 12 ripetizioni per gamba. Esercizio numero 4, donkey kick con l'elastico. Iniziate l'esercizio al suolo e mettetevi a quattro zampe. Posizionate un piccolo elastico attorno ad una delle due caviglie e intorno alla punta del secondo piede. Piegate la gamba con l'elastico sotto la punta del piede e mantenendo questo angolo, sollevatela verso l'alto, concentrando il lavoro sui vostri glutei. Eseguite 4 serie da 16 ripetizioni per gamba. Fate questo allenamento una volta alla settimana come complemento dell'allenamento Tabata Brucia Grassi che vi ho presentato di recente per un fisico più sodo e più tonico. Non dimenticate di mettere un mi piace a questo video se vi è piaciuto e condividerlo naturalmente con tutti i vostri amici. Buona giornata e a presto! Grazie a tutti!